ciao quest'oggi nuovo video video acquisti leader ho preso questo set per decolare le uova e questo set è formato da 120 pezzi e confine dei cartoncini non molto spessi con questa fantasia questa fantasia con questi pallini con queste carotini adorabili poi ci sono questi cartoncini colorati con dei fogli ondulati e dovrebbe essere un formato a 3 un cartoncino questi cartoncini sono di formato a 3 e poi ci sono anche le carta modelli per poter realizzare questa decorazione queste scatoline poi in più ci sono questi adesivi bianchi molto carini e questi fogli lucidi credo che sia un formato a si e nastrini non so da quanto siano questi nastrini e queste pietruzze colorate per poter sempre decorare le uova quindi ho preso questa pistola a caldo con queste ricariche colorate queste quelle più trasparenti c'erano anche quelle sul rosso tipo fantasia natalizia però non ho ritenuto opportuno prenderle poi ho preso questo set di cartoncini e fogli per origami e presto vedrete anche dei video in cui vi farò vedere come si realizzano degli origami con queste fantasie molto molto carine farfalle molto molto e queste ovette coloratissime e sono in tutto 100 fogli e oltre a cartoncino qui ci sono anche delle istruzioni per poter realizzare alcuni origami poi ho preso questi tipo uniposca tir literati che avevo già preso e sono davvero ottimi c'erano anche ad olio ad olio e di un'altra variante erano di tre varianti io ho preso queste e sono veramente ottime sono 12 utilissime di perforatori e devo dire che sono molto molto carini e poi questo è quello angolare poi ma le forbici qui sono quelle decorative tagliano abbastanza lì poi ultimo acquisto questo foratore per per fare i buchi spero che questo video volo possa esservi stato utile in qualche modo se avete provato uno di questi prodotti lasciatemi un commento sotto e se volete un video in cui provo questo prodotto fatelo sapere nei commenti ciao